Mario Formica, Marche 2020. Saluti. Buongiorno. Ecco, conosciamo subito la persona, vediamo un attimino chi è. Conosciamolo. Grazie, sì mi chiamo Mario Formica, sono marchigiano, ovviamente sono nato a Piobbico, ho vissuto a Urbania fino all'età di 15 anni, poi mi sono trasferito a Pesaro per gli studi e poi ho iniziato la mia vita lavorativa che mi ha portato un po' in giro per il mondo senza aver per questo perso le mie radici ovviamente con la mia terra, con il mio territorio. Faccio l'imprenditore da 40 anni, non ho mai fatto politica, è la prima volta che mi affaccio ad un'esperienza politica, poi dirò anche le ragioni, e lo faccio perché alla proposta della mia candidatura ho chiesto di poterlo fare libero da vincoli di ogni tipo e quindi libero di poter trasferire la mia esperienza professionale in quella che è la politica pur sapendo che la politica o meglio l'amministrazione della politica è un'altra cosa dall'impresa ma il mio obiettivo è trasferire la mia esperienza di imprenditore nell'amministrazione del governo regionale se mai sarò eletto, cosa che ovviamente cercherò di fare con tutte le mie forze come ho sempre fatto nella mia vita imprenditoriale e quindi cercando di poter conquistarmi questo risultato. Ho deciso di candidarmi dopo varie sollecitazioni di amici colleghi e anche voglio dire di alcuni amici del governo regionale uscente perché il programma di cui ho preso atto era un programma che aveva tanti punti in verità più di sei punti su nove orientati al mondo dell'economia, al mondo dell'impresa, al mondo del lavoro, un tema che io sento molto ed è un tema nel quale credo di poter dare un modesto contributo pur sapendo che modi e tempi della politica non sono modi e tempi dell'impresa ma la mia speranza è quella di poter invece portare avanti dal punto di vista dell'impegno e anche dell'incidere la mia esperienza nell'amministrazione del governo regionale. Bene, allora quindi lei diciamo ci farà un discorso più orientato sull'aspetto economico. Sì, come dicevo la cosa che mi ha affascinato di questo programma è il mondo del lavoro, è rimettere al centro l'esigenza di ricreare ricchezza, di ricreare produttività perché le tante cose che ci sono da fare, i tanti investimenti che ci sono da fare e che ovviamente dovranno scontare anche la riduzione di quelli che sono i stanziamenti che sono diminuiti dallo Stato centrale per oltre 250 milioni di euro dovranno fare i conti chiaramente anche con questo. Ovviamente io penso che il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa, quindi lavoratori e imprenditori che considero due facce della stessa medaglia non più voglio dire in contrapposizione perché oramai anche gli imprenditori in questi ultimi 7-8 anni, lo dico per mia esperienza personale, sono tornati ad essere dei veri e puri lavoratori perché se mai hanno prodotto qualcosa, creato qualcosa e anche capitalizzato qualcosa in questi ultimi anni hanno dovuto rimettere in discussione tutto quello che hanno fatto e hanno dovuto reinvestire le loro risorse anche personali per dare continuità all'attività lavorativa pur non riuscendoci chiaramente perché nessuno si aspettava che questa crisi iniziata nel 2008 fosse ancora nel 2015 ancora così presente, così forte, ce lo dicono gli ultimi dati dell'Istat, la disoccupazione è aumentata di altri 0,2 punti percentuali per arrivare quasi al 13%, quindi 52 mila posti di lavoro in meno in un mese, quindi 138 mila posti di lavoro su base anno in meno e chiaramente un 13% che purtroppo non porta né fortuna né fa vincere qualcosa, un 13% veramente deludente, senza poi contare che nell'aspetto giovanile si raggiungono le percentuali che sono oramai noti a tutti di oltre il 40-43%, per cui il problema del lavoro è un problema molto sentito, io lo sento a maggior ragione un po' perché faccio l'imprenditore, un po' perché ho tre figli che oggi sono entrati tutti e tre nella nostra azienda di famiglia e la stanno portando avanti e mi consentono chiaramente di fare questa esperienza che naturalmente nasce un po' anche da una passione per la politica anche se non l'ho mai fatta, non l'ho mai fatta in maniera attiva, non sono mai stata iscritta ad un partito, viceversa ho ricoperto diverse cariche nel mondo chiaramente dell'associazionismo che mi hanno ovviamente formato e dato sicuramente degli stimoli anche per entrare un po' più dal punto di vista dell'aspetto, se mi si consente, sociale perché chiaramente chi fa impresa generalmente voglio dire ha un occhio sempre attento alla socialità, difficilmente oggi si può fare diversamente, quindi esperienze che magari anche se gli ascoltatori avranno voglia di verificare sono presenti nel mio curriculum sul mio sito marioformica.it dove si vede un po' il mio percorso professionale, il mio percorso anche di attività associazionistica e quindi quello che è stato il mio percorso formativo. Io penso che se in questi anni comunque si è riusciti a mantenere un livello di coesione sociale come dire sostenibile lo si deve molto alle imprese, al ruolo che le imprese hanno svolto in questi anni pur chiaramente non essendo state in grado di far fronte come probabilmente sarebbe stato necessario, però hanno sicuramente svolto un ruolo importante, io lo posso testimoniare per mia esperienza personale e chiaramente credo che anche il governo regionale comunque voglio dire con i propri limiti nella regione Marche in particolare abbia dato un contributo non indifferente perché comunque sono state messe a disposizione notevoli risorse per tenere una situazione che in altre regioni è sicuramente molto più complicata. Ecco Formica, fare impresa ovviamente oggi è una parola davvero soprattutto alla luce di un giovane con le difficoltà, con il sistema fiscale altissimo eccetera, è davvero una cosa da coraggiosi. Per cui a questi ragazzi bisogna anche dargli una mano da un punto di vista diciamo almeno sotto una forma di agevolazione, però io se lei è d'accordo inizierei perché non tutti hanno capito questo concetto delle macro regioni, cioè ecco che cosa sono queste macro regioni e soprattutto se lo riesci a legare nel discorso di finanziamento, perché la comunità europea sono in arrivo dei finanziamenti quindi poi ecco se riusciamo a toccare anche il fatto saremo capaci di incamerare questi fondi, abbiamo le persone all'altezza per poter fare questo, cioè o come al solito all'italiana non siamo capaci poi neanche di spendere i soldi quando poi ce l'abbiamo a disposizione. Ecco cominciamo dalle macro regioni, capiamo questo progetto perché è così importante per la nostra regione. Io credo che la nostra regione, la regione Marche, ha un'occasione straordinaria. La realizzazione della macro regione dell'Adriatico dell'Oionio che si è concretizzata lo scorso 26 ottobre con la firma definitiva per la sua costituzione è un'occasione veramente per il nostro territorio inrinunciabile. Chiaramente non tutti sanno probabilmente, io ho seguito questo progetto perché è molto interessante, siccome ho lavorato moltissimo all'estero mi stimolava molto capire che cosa significava macro regione dell'Adriatico e dell'Oionio. Come voi sapete la macro regione dell'Adriatico e dell'Oionio raggruppa tutte le regioni che bagnano il mare Adriatico degli 8 stati che si affacciano sul mare. Quindi sono l'Italia, la Slovenia, la Croazia, Bosnia e Herzegovina eccetera fino ad arrivare alla Grecia. Quindi parliamo di un mercato o un bacino se forse più facile di 1.500.000 imprese, 45 camere di commercio coinvolte e quindi temi sull'economia da realizzare estremamente importanti. Io ho partecipato anche personalmente al forum delle camere di commercio che si è tenuto a Corfu proprio perché mi interessava lo sviluppo di questa esperienza della quale credo si debba moltissimo al governo della regione Marche perché tutti sanno anche recentemente negli ultimi convegni che sono stati fatti voglio dire l'attività del presidente Spacca su questo argomento e comunque su tutta la internazionalizzazione delle imprese voglio dire è stata un'attività molto molto fruttuosa. Ora ovviamente bisogna essere capaci di catturare come diceva giustamente lei le risorse che ammontano a 5 miliardi di euro messe a disposizione per il bacino della macro regione dell'Adriatica e dell'Oionio chiaramente miliardi di euro che verranno o potranno essere catturati a fronte di progetti progetti mirati. Si va dal settore delle infrastrutture al settore della cosiddetta blu economy cioè tutta l'economia del mare quindi la pesca la nautica eccetera eccetera e altri settori università e non voglio interromperlo però infrastrutture quindi vuol dire creando dei progetti immagino piuttosto ampli portare soldi anche sulle nostre strade ci riusciamo? Assolutamente vuol dire infrastrutture vuol dire porti interporti viabilità tutto quello che chiaramente rientra in quello che è la valorizzazione della macro regione dell'Adriatica e dell'Oionio quindi anche le strade. Quindi per riuscire a portare fondi sulle nostre strade bisogna realizzare progetti. Bisogna creare un progetto immagino di una certa importanza abbastanza amplio eccetera per cui si potrebbe poi portare sulle nostre strade. Chiaramente sarà un'impresa non facile però la nostra regione ha un grande vantaggio un vantaggio è dato dal fatto che la grande attività fatta dalla regione Marche su questo argomento e in particolare dal presidente Spacca ha consentito di avere Ancona quindi le Marche come il centro o se mi si consente la capitale di questa macro regione quindi tutti gli uffici le segreterie eccetera le avremo nella nostra regione quindi io credo che questo al di là degli aspetti come dire tecnici e professionali che dovranno essere puntuali nel realizzare i progetti avremo la capacità e la possibilità di interloquire in maniera molto più diretta e quindi credo che questo possa essere un vantaggio o comunque un vantaggio competitivo al quale non dovremmo rinunciare perché chiaramente avendolo in casa si può sicuramente interloquire in maniera più diretta quindi io penso che sarà molto più facile per noi magari anche un po' egoisticamente ma insomma per noi come regione Marche poter come dire usufruire di questo di questo vantaggio che la macro regione ci consente quindi una possibilità ovviamente perché tutti ne parlano no qui va beh qui si parla molto di agroalimentare ormai si dà quasi per morta il commercio le aziende cioè si dice si stanno in piedi le aziende che commerciano con l'estero bravi questi imprenditori poi si parla solo di agroalimentari che sicuramente è una fonte per l'entroterra anzi il turismo no questo tipo di tematiche saranno sicuramente il futuro però è abbastanza umiliante pensare invece che non puoi aprire un'impresa queste terre fino a oggi no ci sono rette su queste aziende qualcuna resiste altre hanno chiuso ecco cioè cosa possiamo dire appunto se uno ha un'azienda in crisi per esempio ecco che messaggio gli possiamo dare intanto purtroppo anche le c'è anche la politica nazionale anche da questo punto di vista chiaramente i dati numerici non è che ci vengono molto in soccorso perché era di pochi giorni fa la pubblicazione su un articolo di stampa del locale della provincia di peso i dati della camera di commercio insomma ci davano in questi sette anni la perdita di 3.000 imprese e un saldo negativo di qualche centinaia di imprese solo per l'ultimo anno senza considerare un fatto che le statistiche purtroppo non vanno in soccorso in senso positivo e mi spiego meglio sono state cancellate molte imprese e quello è un dato certo ma delle molte che ne sono state aperte sono soltanto contratti di lavoro alternativi al lavoro come dire subordinato dipendente perché ovviamente qualcuno che non ha lavoro si apre la sua partita IVA quindi apre la sua impresa sembra che nascano nuove imprese ma in realtà sono solo come dire delle situazioni che vanno a coprire delle problematiche di lavoro che dicevamo prima quindi da questo punto di vista non ci viene i dati non ci vengono molto in soccorso purtroppo per quello che riguarda le imprese le imprese si dividono in questo momento in due fasce molto precise al di là della dimensione piccolo grande o media anche se certamente quella resistenza di cui parlavo prima è soprattutto nelle piccole e medie imprese cioè in quelle imprese dove l'imprenditore ancora è molto presente e dove decide anche sulla sua pelle se fare o non fare delle scelte se sostenere o non sostenere degli investimenti se mantenere o non mantenere dei posti di lavoro quindi dove c'è molta faccio l'esempio della mia impresa dove hai poche decine di persone naturalmente si stabiliscono dei rapporti con queste persone quindi difficilmente vengono trattate con i numeri quindi vengono trattate come delle 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 sì no certo ecco vogliamo smentire no questa cosa che comunque un'azienda se chiude o delocalizza comunque non sarà certo la gioia lasciare i dipendenti a casa se parliamo di un'impresa con pochi dipendenti guardi io le dicevo prima ho fatto una lunghissima esperienza associativa tanti anni sono stato presidente di confindustria vicepresidente in giunta sono stato nella commissione nazionale di ricerca e sviluppo quindi voglio dire ho visto un po' tante cose ovviamente come sempre ci sono i casi le cosiddette rondini che non fanno primavera cioè è chiaro che ci sono anche casi che non sono molto come dire piacevoli da vedere da ascoltare ma non rappresentano le imprese le imprese le assicuro che sono fatte di persone di uomini di imprenditori che tutti i giorni voglio dire si alzano presto lavorano e cercano di produrre non solo per le loro famiglie e per i loro dipendenti ma anche per la comunità qualche cosa che è quello che ha consentito negli ultimi 50 anni di essere l'Italia che siamo voglio dire che questo si possa si possa si possa disconoscere e le posso assicurare che in questi ultimi anni molti di noi direi tanti di noi non gli sono mancati i momenti di fare il viso rosso di fronte all'istituto bancario o di fronte a tante situazioni chiaramente che non vengono in soccorso alle esigenze della piccola e media impresa perché comunque sappiamo bene che il nostro paese ha tutto fuorché è una politica industriale è una politica di sostegno all'impresa come se l'impresa che molto spesso tra l'altro ha torto viene demonizzata io poi ripeto mi riferisco in particolare alla piccola e media impresa e all'artigianato perché sono voglio dire le nostre punte di diamante quindi le nostre imprese voi sapete che anche le imprese associate a Confindustria per il 90% sono imprese che sono al di sotto dei 15 dipendenti quindi voglio dire parliamo di quel tipo di imprese che le dicevo prima che sono quelle che interagiscono mi perdoni, oggi la cosa triste è che quasi quasi non si parla più io vedo anche in questa campagna elettorale ripeto si parla di agroalimentari, di turismo eccetera però porca miseria l'impresa io penso che ancora sia il settore trainante per dare posti di lavoro cioè almeno oggi come oggi io come le dicevo prima voglio ribadirlo con forza anche perché è l'argomento della mia campagna elettorale io sto facendo un, ho iniziato un tour il 2 di maggio partendo da Urbagna che è il mio paese voglio dire di partita, cosiddetto paese di partenza perché quasi sta a simboleggiare sono partito da lì e torno lì e da lì riparto e quindi sono già una decina di giorni che visito l'entroterra in particolare perché secondo me alle prime battute della mia campagna elettorale mi sentivo dire che l'entroterra era stato dimenticato dalla regione quindi parlando con le persone con i miei amici, con i miei ex compagni di scuola voglio dire che sono le prime persone allora io mi sono posto subito questo problema ho detto la prima cosa che devo fare fare un giro e attivare una sorta di campagna d'ascolto perché ovviamente ho un approccio diverso dalla politica tradizionale cioè mi piace capire quali sono i problemi riflettere e poi proporre delle soluzioni perché generalmente io sento mi si consentiranno e credo che non me ne vogliano i miei colleghi candidati ma molto spesso i politici sono un po' tutologi sembra che conoscano tutto dalla sanità all'impresa all'economia eccetera poi in realtà io credo che ogni come dire ogni settore abbia necessità di una conoscenza, di una competenza specifica quindi poi è ovvio che conoscendole e applicando un metodo applicando una volontà applicando una determinazione nel risolvere forse si possono fare anche delle cose interessanti quindi diciamo che io mi sono subito proiettato a cercare di capire quali fossero i problemi e non nascondo che ne ho incontrati subito tantissimi e soprattutto ho incontrato questa lontananza che si è avvertita soprattutto nei territori dell'entroterra io sono del Monte Feltro quindi voglio dire sono qui a due passi e quindi ho cercato di capire che cosa si poteva fare per acquisire tutta una serie di informazioni e di dati per poter poi elaborare delle risposte o comunque portare delle risposte laddove io come mi auguro voglio dire venissi eletto per cominciare ad affrontarli concretamente quindi ecco chiedo scusa se lei dovesse venire eletto sarà quindi un referente per l'entroterra perché qualcuno adesso ci potrebbe accusare che lei risiede a Rimini giusto? sì io risiedo a Rimini in questo momento ma dato che ho l'occasione e lo dico anche io risiedo a Rimini anche se chi mi conosce sa benissimo che il mio legame col territorio con l'entroterra marchigiano è indissolubile perché io, mia mamma tutta la mia famiglia vive a Urbagna da sempre le mie prime risorse economiche che sono riuscito ad accantonare le ho investite nel mio paese e quindi ho mantenuto un legame pensi solo che i miei figli sono nati a Rimini ma parlano solo il dialetto marchigiano tanto per capirci comunque dicevo dato che ho l'occasione lo dico se mai io dovessi essere eletto come spero perché mi sto attivando perché questo avvenga mi sto impegnando perché questo avvenga la prima cosa che farò prendo la residenza a Urbagna ah questa ecco lo dico perché lo farò non perché anche perché ho una bellissima casa che mi sono fatto tanti anni fa così me la godo ecco sicuramente avrà incontrato rappresentanti di varie aziende eccetera con lei stiamo toccando appunto questo argomento che fino adesso non abbiamo ancora toccato cosa le chiedono gli imprenditori? allora io guardi fra l'altro proprio già dalla settimana scorsa domani farei la stessa cosa ho visitato visiterò delle aziende cioè tutte le settimane visiterò al 4-5 aziende diversi settori le cose che chiedono tutte come dire il comune denominatore è questo la capacità di dare loro la possibilità di essere ascoltati cioè la risoluzione la risoluzione della burocrazia cioè delle risposte non solo nel settore amministrativo to-cure perché per burocrazia noi pensiamo solo agli uffici come dire amministrativi comunali provinciali eccetera eccetera le valie Asla Arpa e quant'altro no non solo anche quello che è tutto il sistema per esempio bancario che è un sistema cambiato completamente nel senso che oggi uno dei motivi per cui è difficile fare impresa è perché non c'è credito e non c'è credito a prescindere dalla garanzia che l'imprenditore è disposto anche a dare perché un tempo parlo anche del mio tempo era come dire non dico sufficiente ma comunque rappresentava un valore importante il poter offrire alla banca una garanzia affinché la banca ti potesse sostenere nella tua impresa oggi questo non è più possibile perché il sistema bancario è un sistema che al di là degli impieghi che ha e che continua a mantenere chiaramente difficilmente eroga finanza nuova un po' perché non gli conviene un po' perché il rischio di perdere quel credito è molto elevato e quindi al di là della garanzia che poi oggi perde di valore nel senso che le banche sono piene più di immobili pignorati a imprenditori che hanno dato gli immobili come garanzia per fare le loro imprese che non viceversa quindi è un sistema che come dire è collassato mai come questa volta cioè chi ha un'impresa o il singolo lavoratore paradossalmente sono dalla stessa parte prima chi aveva un'impresa era parte del sistema politico dai siamo in Italia aveva i suoi agganci in tutte le nostre valli ma da tutte le parti insomma girava anche il voto girava cioè l'imprenditore era era la politica cioè la governava la politica oggi paradossalmente cioè è l'alta finanza che governa ma più l'imprenditore ha gli stessi problemi ci sono abbandonati un po' a se stessi è così lo dicevo prima siccome parliamo poi dei commercianti quelli vabbè quelli lo dicevo prima secondo me impresa o meglio imprenditore e lavoratore sono oggi sono sullo stesso piano quindi l'imprenditore chiede esattamente come il cittadino le stesse cose abbiamo parlato di un accenno in economia parliamo anche un attimo di banche a questo punto perché abbiamo un sistema bancario che è incredibile in maniera particolare l'aspetto dei mutui per esempio si è perso purtroppo è crollato il mercato immobiliare e per quanto riguarda le famiglie il bene rifugio principale un po' per le tasse per la tassazione che comincia ad attaccarsi su questo un po' per il fatto che ormai gli immobili non hanno più il valore di prima insomma prima tu facevi un investimento naturale perché l'italiano faceva i mutui perché compravi la casa a una cifra x dopo 8 anni ti si raddoppiava il valore lo stesso valeva anche per il discorso bancario che aveva le sue garanzie quindi ti dava il mutuo eccetera oggi il sistema bancario vive in un altro modo ecco in chiave regionale come possiamo pensare con questo concetto possiamo fare qualcosa per riuscire a rimettere in moto il sistema anche per quanto riguarda le famiglie i cittadini guardi allora intanto devo fare la premessa che credo che i suoi ascoltatori imprenditori artigiani capiscano benissimo quello che intendo dire le banche negli ultimi anni non ripetere per l'andamento globale del mercato hanno smesso di fare il mestiere che facevano prima o perlomeno hanno smesso di farlo come lo facevano prima prima le banche erogavano credito sulla base delle garanzie che tu eri in grado di prestare oggi questo non è più sufficiente perché quelle garanzie a meno che non siano i cosiddetti collaterali cioè soldi contro soldi non ci sono più e perché chiaramente i valori degli immobili sono diminuiti e quindi non hanno più gli strumenti per fare credito e la classe dirigente bancaria nella gran parte dei casi non si è adeguata a valutare i singoli progetti e dare credito ai progetti e quindi tutto questo lo stesso immagino che vale anche per l'impresa assolutamente per l'impresa è chiaramente ancora prima che per i mutui perché voglio dire adesso i mutui sono crollati perché ovviamente mancanza del lavoro per chi deve comprare la casa e quindi capacità di potersi indebitare le banche che hanno ridotto enormemente la la cioè se io ho un'azienda che vendeva sul mercato italiano e deve riassemblare tutta la sua produzione per un mercato estero ma dove li prende i soldi per poter fare se le banche non gli danno i fondi questo vale un po' per tutti purtroppo la situazione è questa in questo momento voglio dire le imprese le assicuro soffrono tutte tutte di credito tant'è che oggi si dice che non si muore di lavoro ma si muore di finanza perché la parte finanziaria è completamente crollata cioè il supporto delle banche alle imprese è crollato poi non sta a me citare i casi sapete quante banche a loro volta abbiano avuto problemi hanno avuto problemi di solvibilità e quant'altro allora cosa succede che un po' anche nel nostro programma che io mi auguro possa essere realizzato nel nostro programma c'è appunto la creazione di una finanziaria regionale perché possa essere creato questo strumento uno strumento per poter accendere i fondi di garanzia ed essere garanzie collaterali alle banche perché finanzino le imprese ogni euro messo a disposizione del sistema bancario dal punto di vista della garanzia può sviluppare cento di erogato per il sistema imprese quindi questo è uno degli argomenti che noi abbiamo all'ordine del giorno nel nostro programma e io spero vevamente anzi so che era già in programma di essere portato avanti questo progetto e spero che si possa portare avanti perché creare degli strumenti di fondi di garanzia affinché a favore delle banche affinché le banche possano finanziare le imprese secondo me è un passaggio irrinunciabile non si può che non passare attraverso questo percorso questa è una cosa sulla quale io spero di avere la possibilità di impegnarmi perché è un mondo che ho conosciuto e lei sa meglio di me che le esperienze più dirette sono quelle che poi formano quindi il primo sentivo parlare della sanità e quindi voglio dire sento che l'esperienza specifica è quella che poi ti dà la visione più corretta di quello che è il problema e quindi io spero di poter avere modo e tempo di potermi dedicare a questa cosa perché ripeto a me la cosa che sta a cuore è questo creare lavoro creare reddito perché se la regione non crea la redditività e non ricrea ricchezza non c'è possibilità di ridistribuire granché e quindi non c'è possibilità di fare investimenti di riorganizzare tutto quello che c'è da riorganizzare in una regione anche come si diceva prima il sistema sanitario e quant'altro benissimo facciamo adesso un 5 minuti di demagogia prego allora Marche 2020 tantissimi accusano Spacca per il fatto che praticamente non ha voluto mollare la poltrona ovviamente qui è stato fatto una sorta di ribaltone di alleanze ecco mi dica il suo punto di vista cosa è successo dunque io siccome ho fatto la premessa che non vengo dalla politica e quindi chiaramente non voglio non voglio rispondo alla domanda non mi sottrago rispondo alla domanda ma rispondo così alla domanda guardi se lei avesse una Ferrari a chi la fiderebbe a un neopatentato o a qualcuno che ha già dimostrato di saper guidare questa è la risposta che le do ergo so che il presidente Spac ha chiesto con grande forza di fare le primarie di coalizione perché se l'esperienza di governo del centro-sinistra è stata un'esperienza di governo che la sinistra oggi sostiene di essere stata un'ottima esperienza perché la sanità io così girando nel mio tour elettorale mi parlano della sanità degli ospedali delle difficoltà e quindi individuano in spacca il responsabile del sì che lì la cosa ridicola è che da parte PD si lavano le mani come se il PD non l'avesse governato io ripeto non voglio entrare con i piedi come si suol dire nel piatto nella politica proprio più schietta ma mi chiedo e mi risulta che l'assessore alla sanità nel governo regionale fosse un assessore del PD persona bravissima capacissima e degnissima forse del PD quindi non fosse una persona che viene da un'altra esperienza politica io so e ripeto anche perché nei vari contatti che ho avuto per accettare questa candidatura come si sono svolte le cose e mi sembra di capire che l'unica ovvietà sia quella di dire vuol stare attaccata alla poltrona al terzo mandato non mi sembra che però emergano altre contestazioni allora io dico le buone idee le buone capacità sono da rottamare o sono da preservare io che faccio l'imprenditore sono più per la costruzione per la ricostruzione se mai poi magari mi ponghi il problema Spacca ha un'esperienza di governo credo e le posso assicurare almeno dal punto di vista anche di un imprenditore che lavora nel mondo non dico di primo ordine ma molto di più nella media regionale dell'Italia perché è stato un presidente che ha saputo guardare un po' più in là del naso e oggi le imprese marchigiane da questo punto di vista sono contente perché esportano perché hanno mercati aperti in Cina in Russia negli Emirati Arabi e questo grazie all'attività che Spacca ha portato avanti magari posso concordare con coloro che dicono l'abbiamo visto poco in giro soprattutto nell'entroterra quindi chieda scusa un cambio d'alleanze può dare anche un qualcosa di diverso da un governo Spacca? Io penso di sì perché il presidente Spacca si sta anche contornando di esperienze che vengono dalla società civile e quindi ha capito che il buon governo del passato e ciò che di buono è stato fatto in passato oggi va integrato con un mix di novità quindi Spacca è sicuramente una certezza io sono modestamente una novità e credo che questo sia un buon esempio di immaginare un governo nuovo della regione e l'esperienza voglio dire anche personale che mi dice che è la strada giusta perché torno a ripetere se un governatore come Spacca ha governato bene come voglio dire questo risulta perché poi ripeto le critiche maggiori vengono dagli stessi componenti della giunta che hanno fatto e preso le stesse decisioni quindi è un po' discutibile la cosa poi ripeto non mi sembra che ci siano altri argomenti al di fuori che del terzo mandato ma torno a ripetere io se acquisto una Ferrari preferisco darla in mano a chi ha dimostrato di saper guidare di saperla guidare piuttosto che ha neopatentato quindi io sono perché Spacca continuo la sua esperienza di governo perché ha le capacità per farlo ha dimostrato di averle e ha in questo momento sta dimostrando l'intelligenza di saper aprire a nuovi contributi di governo a persone nuove persone che vengono dalla società civile perché anche lui si rende conto che serve uno scatto in avanti e quindi serve andare un pochino più in là di quello che è stato fatto fino ad oggi bene io direi che abbiamo esaurito questo questo tempo e per cui come lo dico a tutti lo chiedo anche lei per quale motivo i nostri ascoltatori dovrebbero darle un voto ma io penso che gli ascoltatori se mai vorranno sostenere la mia candidatura dovranno votarmi e se vorranno votarmi semplicemente sulla base della mia esperienza politica della mia esperienza prima della politica che io intendo portare nella politica quindi un grande impegno una grande scommessa una grande sfida e soprattutto una volontà di poter rappresentare un territorio soprattutto il territorio dell'entroterra e delle marche in regione essere un'antenna per tutti i cittadini pronto a ricevere tutte quelle che sono voglio dire le istanze che provengono dal territorio ed essere un'antenna lì per loro quindi io chiedo agli ascoltatori di votare Marche 20 e 20 e di scrivere nella scheda la preferenza formica